Intanto bisogna smetterla con questo imbroglio di raccontare agli italiani che è stata approvata una riforma. È una proposta che verrà mandata al Parlamento e che non ha nessuna possibilità di essere approvata, anche facendo miracoli, prima di un anno, un anno e mezzo. Quindi campo a cavallo. È un'operazione d'immagine, sbagliata. La riforma della giustizia che aspettano gli italiani è quella che porta a certezza della pena. Processi più veloci, cause civili più veloci. Nulla di tutto questo c'è in queste norme che puntano unicamente a punire l'autonomia dei magistrati mettendo i pubblici ministeri sotto il controllo politico, sotto il controllo del governo. La nostra opposizione sarà dura e intransigente.